ben a tutti i ragazzi e bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo il liquido è della vappo round si chiama berry ice ora andiamo a fare la prova di svapo a zero nicotina 30 ml vai gabriel io andrò a provare sulla match pro e il druga e io sopra la wismac con l'apocalypse spinto a 10 0 10 sulle nostre resistenze da pazzi perché me la legge basta che non mi scende fa un botto di vapore poi l'odore di morosita buonissimo per me è fresco giusto e poi il gusto di mora attorno fortissimo la mentale si spaga i polmoni ma non ci spaga i polmoni mi piace buono si sente anche la mora bella dulcetta tipo quando ho finito di succhiare la morosita che potete vedere questo liquido e ci dà un sette e mezzo si eccetera e mezzo all day tanta roba peccato che 30 ml questo dove sarà qualcuno ti vuole pulire un po la bocca che stai facendo quattro ore questo finisco si da taverna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e su facebook veniteci a trovare la taverna dello svapo un bacio